È un tema che mi sembra importante, tanto che un intellettuale come Giuliano Ferrara ci ha fatto anche un partito, scusi la richiesta di moratorio dell'aborto, vorrei sapere qual è la vostra posizione, voi siete in disaccordo o siete d'accordo? Ma noi siamo d'accordo, noi siamo d'accordo, è lui che non si capisce cosa è d'accordo con se stesso che vuole fare, io ci ho parlato con Giuliano Ferrara, lo sono andato a trovare, stava in questa vasca, una confusione che non ti dico, io ho detto a Giuliano che devo fare, che è sta moratoria d'aborto? Il moratore d'abena di morti vuol dire che a questi gli impedivano di ammazzi i carcerati, il moratore d'aborto che vuol dire che impedivano a questi ragazzi di abortire? No, dice lui, non potevamo obbligare una ragazza a portare avanti per forza gravidanza, e allora che fanno la legge? Lasciamo così? No, dice lui, è omicidio, e allora che fanno Giuliano? Cambiamo la legge? No, non ho detto questo, e che hai detto Giuliano?